fratelli e sorelle ciao a tutti ben ritrovati benvenuti in questo mio nuovo video buon mercoledì 26 luglio a tutti voi allora allora anche oggi vado con il recappone generale della giornata di ieri della juventus ovviamente negli united states of america abbiamo diverse ufficialità la coppa italia next gen ci abbiamo due rosicate clamorose ma oggi veramente sono clamorose ma ma prima di tutto prima di tutto allora mi raccomando mi raccomando faccio prima lo spam del mio poi del tuo allora iscrivetevi al canale del postman ok attivate la campanella lasciate un like a questo contenuto questa è la frase no mantra no degli youtubers ti do un comandamento nuovo quando fai quando farai video di te stesso no quando ti riprenderai bisogna guardare qui qui bisogna guardare bisogna guardare sulla telecamera perché tanti minchioni guardano qui guardano lì guardano sullo schermo dove cazzo rola dove guardi dove qua bisogna guardare qui certo io ogni tanto butto un occhio sullo schermo per vedere il minutaggio perché i video troppo lunghi sono noiosi però quando si fanno i video regola numero uno se guarda la camera non se guarda lo schermo come ma ma parliamo di youtubers importanti cioè gente che c'ha tipo 33 300k di iscritti capito che non che non guardano la camera guardano lo schermo dove cazzo rola guarda allora ragazzi qui sotto in descrizione il suo canale oggi ci mette oggi oltre al nome abbiamo il volto cosminiello mio figlio come si chiama alba morente 23 alba morente 23 che cosa stai portando per adesso adesso dei shorts su calcio barra mia vita con dietro immagini dei calciatori anche un po click bait se vogliamo però ci sta ci sta alle prime armi ci sta attenzione perché un video un suo video ha fatto la bellezza di 5.012 visualizzazioni io non le faccio da una vita perché quindi no compli complimenti perché evidentemente hai ecco catturato l'attenzione dell'algoritmo di youtube quindi ti faccio i complimenti detto questo ragazzi qui sotto in descrizione alba morente 23 il canale suo se volete iscrivetevi grazie ringrazia allora andiamo perché già abbiamo folgorato tre minuti di video ragazzi intanto lì dietro ci abbiamo la maglia ci abbiamo la maglia away bellissima stupenda allora detto questo la rossicata la rossicata andiamo prima con la rossicata io ovviamente ho messo la coppa italia allora ci abbiamo claudio lottito scusate lo dito non lo tirchio questa è la prima questa è la prima ragazzi guardate lottito quadrado voleva venire alla lazio bonucci uguale ecco peccato che quadrado è andato all'inter e bonucci sta ancora alla juventus benissimo benissimo seconda rossicata di lottito questa è clamorosa questa è clamorosa ragazzi berardi ha firmato un contratto con la juventus e poi lo ha strappato attenzione questa è la storia che ha fatto berardi su instagram è arrivata la smentita di carnevali carnevali dice berardi è la nostra bandiera da lottito accuse false e ineleganti insomma ragazzi rossicata clamorosa grande lottito ma ce n'ho un'altra attenzione ce n'ho un'altra questa è freschissima riguarda la seconda maglia della roma attenzione di bala la nuova maglia della roma e i tifosi siamo diventati la juve perché perché la maglia è bianca e c'ha gli inserti adidas neri quindi per i tifosi io io dico che la adidas alla roma sta facendo maglie bellissime anche questa è molto bella mi sembra un bianco che tende un po al crema come colore però loro ci hanno visto la juve perché ci sta il nero sul bianco loro ci ha visto la juve benissimo benissimo bene ma non benissimo poi mettiamo ragazzi vi metto il tabellone della coppa italia velocissimamente ecco qua guardate il cammino che ci avrà la juve ragazzi guardate il cammino della juve dalla parte destra ci abbiamo lazio roma quindi potenziale derby juventus e napoli chiaramente noi partiremo dagli ottavi di finale però insomma diciamo che il tabellone dalla parte destra mi sembra un po squilibrato rispetto alla parte sinistra perché ci stanno inter fiorentina atalanta e milan chiaramente ragazzi chiaramente noi si punta al top ma diciamo che la nostra strada lato destro è leggerissimamente in salita detto questo ragazzi velocissimamente velocissimamente abbiamo team wea che ieri ha parlato sul canale viola della juve adesso ve lo leggo poi abbiamo andrea bonetti che va in prestito al taranto stiamo parlando della next gen martin palumbo che torna dall'udinese acquistato dalla juve a titolo definitivo contratto fino al 2025 ha rinnovato simone iocolano ha rinnovato fino al 2024 e poi brando moruzzi va al pescara a titolo definitivo questo riguarda la next gen ragazzi andiamo un attimino a parlare di timothy wea che ieri ha fatto il suo come dire esordio sul canale viola della juventus velocissimamente vi leggo quello che ha detto inizio a mettervi poi in grafica le foto dell'allenamento di ieri della juventus più la nuova partnership della juve allora wea velocissimamente ragazzi wea la prova la juventus è una benedizione giocare per una squadra così importante prestigiosa ora devo soltanto adattarmi al meglio e fare quello che so fare il mio arrivo qui è stato semplicemente fantastico mi ricordo ancora bellissimo questo aneddoto mi ricordo ancora che stavo giocando a calcio con la mia console di videogiochi la cosa divertente è che qualche mese prima avevo fatto una carriera giocatore ed ero andato proprio alla juventus pensa fifa 23 ha spoilerato praticamente la nuova squadra di team wea mentre giocavo mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che la juventus quella reale era interessata a me da lì in poi ho giocato ancora meglio perché ero entusiasta e te credo vorrei vedere scherzi a parte ho capito che avrei fatto di tutto per venire qui e poi l'affetto dei tifosi ragazzi i fan sono fantastici fin dal primo giorno qui ho sentito il loro sostegno e non mi aspettavo che così tanti tifosi mi aspettassero fuori dal j medical il giorno delle visite la passione che mi hanno mostrato è stata bellissima quindi non vedo l'ora di vederli all'allianz stadium so che sarà super rumoroso e non sto più nella pelle team timmi timo o timmo cioè c'ha quattro soprannomi io andrò praticamente fuori di testa non importa davvero come mi chiama la gente mi sono abituato a essere chiamato da tutti timmo quindi lo chiamiamo timmo uea ufficialmente prima lo faceva mia madre poi sono andato al celtic e lì è diventata un'abitudine quindi ho lasciato che tutti mi chiamassero così ma mi va bene qualsiasi soprannome l'importante team è che tu ari la fascia destra della juve poi il resto va benissimo tutto che ti possiamo anche chiamare pinco pallino no per dire una grande famiglia con mckenny chiaramente il rapporto è bellissimo ma mi sono reso conto che tutti i miei compagni allo staff sono estremamente gentili quindi mi sono sentito il benvenuto fin dal primo giorno in questo fantastico gruppo che è come una grande famiglia avere weston qui aiuta indubbiamente perché parla inglese è un mio compagno anche nazionale ci conosciamo da anni abbiamo un rapporto bellissimo ma anche con ken e gatti mi riverto molto federico mi piace molto perché è genuino e poi gioco proprio da accanto a lui quindi spoilerato in buona sostanza il fatto che la juve probabilmente partirà col 352 perché sull'asse destro ci abbiamo gatti centrale wea ala a tutta a tutta fascia ma può anche essere terzino gatti centrale wea terzino destro ragazzi piccolo spoiler del modulo in buona sostanza è sempre disposto ad aiutarmi quando ti trasferisci una nuova società è sempre una cosa bella avere un compagno così in squadra la prima rete in bianco nero il mio primo gol alla juve nascerà sicuramente da un pallone di locatelli questa ce la segniamo vediamo se succederà ragazzi mi offre sempre degli ottimi palloni quindi so già che farò quella corsa e lui mi fotterrà l'assist perfetto ha una classe tutta italiana sul pallone e questo ragazzi era team wea ieri sul canale viola della juve con il mitico peppe credo non ha seguito proprio fatto il report e poi ragazzi andiamo a chiudere questo video con la nuova partnership della juve tra la juventus e spero di dirlo bene o 32 si il riposo il rapporto tra calcio e moda si evolve ragazze quei ragazzi queste sono ma ragazze e ragazzi ovviamente queste sono maglie limitate ho messo chiaramente le foto maglie limitate 250 euro a maglia quindi non fa per me non fa per me se avete 250 euro da spende le trovate sullo store della juve io a questo giro passo passo la mano passiamo allora leggo anche qui praticamente abbiamo avuto vlaovic ken gatti e pogba chiaramente pogba che hanno fatto da modelli una nuova ed entusiasmante partnership per la juve una collaborazione unica nel suo genere con offerti ci si magazine e fashion brand berlinese il frutto di questa unione la creazione due maglie esclusive e a edizione limitata ecco oltre a una serie di accessori una collezione che rappresenta un'evoluzione ulteriore del rapporto tra sport e moda al cuore di questa partnership e la comune passione per l'autenticità la creatività e ovviamente al centro di tutto la prima maglia adidas per la stagione 23 24 quella che sta lì dietro ragazzi costumizzata in due differenti versioni manica corta e lunga oltre a un cappello e una sciarpa la collezione si contraddistingue per l'iconica fiamma simbolo di o 32 si metafora della passione e del fervore dei tifosi juventini mi fermo qua perché se no ragazzi andiamo top troppo oltre abbiamo detto tutto questo è stato il report odierno le foto ieri la juventus ha lavorato al mattino davanti ai ragazzi delle juventus academy los angeles e del training camp los angeles ragazzi vi ho detto tutto recappone generale di ieri ci proiettiamo verso juve milan di venerdì se gioca le 4 e 30 ora italiana tu dormi io me la guardo io mi alzo e me la guardo io mi metto a dormire tre notte esatto ecco vabbè allora guardate scusa allora vi saluto vi vuoi salutare qualcuno mi raccomando iscrivetevi al canale suo saluti saluti aspetta che ci sta anche dadino eccolo qua ecco saluta saluta bene eccolo il si servista mezza capoccia ragazzi come sempre come sempre fino alla fine vamos juve a domani a domani giovedì sul canale del vostro postman ciao a tutti iscrivetevi anche al canale suo ciao ciao